Buonasera a tutti, ho constatato il numero legale e direi di iniziare i lavori della seduta che prevede il primo punto all'ordine del giorno, nonché l'unico punto, linea gustava gemellaggio con il comune di Ortona, sottoscrizione patto di gemellaggio. Prima di iniziare la seduta vorrei fare dei ringraziamenti doverosi, anzitutto saluto i cittadini di Minturno che sono giunti qui questa sera in occasione di questo patto di gemellaggio, ringrazio le autorità civili e militari presenti, per me sinceramente è un'emozione, un orgoglio, un onore presiedere questo consiglio comunale qui questa sera che è un gemellaggio che rimarrà nella storia del comune di Minturno e che riguarda la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici. Io ovviamente è stato appositamente convocato in questa cornice straordinaria che è il nostro comprensorio archeologico e ringrazio la sovraintendenza per l'opportunità che ci ha concesso. Ringrazio il sindaco di Ortona, i consiglieri comunali, la rappresentanza del consiglio comunale, dell'aggiunta comunale e della comunità di Ortona che sono giunti qua. Ci tengo anche a ringraziarli perché in occasione della loro festività di Sant'Omaso Apostolo ci hanno accolto a braccia aperte con entusiasmo, con affetto e insomma siamo andati lì, io sono andato lì insieme ad una rappresentanza dei nostri gruppi folcloristici e li ringrazio per l'accoglienza che ci hanno dato. Abbiamo organizzato un consiglio comunale poco formale proprio per l'amicizia che c'è tra le due città e direi di passare quindi ai lavori con gli interventi dei vari consiglieri comunali e ringrazio il delegato, la memoria storica del sindaco Mirko Mendico al quale chiedo di intervenire per dirci un po' quelle che sono state le tappe che ci hanno condotto qui questa sera alla sottoscrizione di questo patto di gemellaggio. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti. Niente che dire, io da un po' di anni che faccio ricerche storiche soprattutto sul periodo bellico e mi sono sempre chiesto come mai due città come Minturno e Ortona che venivano sempre menzionate dai libri di storia insieme per quanto riguarda la linea Augusta non fossero state mai gemellate o fossero state mai convolte null'altro. Da qui è partito il mio impegno a portare avanti questo percorso che servirà non solo a gettare le basi culturali ma anche spero turistiche economiche tra le due città. Ho apprezzato già da tempo la città di Ortona che è un meraviglioso museo della battaglia, già da tempo attraverso il mese dalla memoria se non erro ricordano il passato e allo stesso momento portano avanti altri progetti. Quello che stiamo facendo noi da un paio d'anni ringraziando il sindaco Stefanelli che crede fortemente sulla base di questi valori di portare avanti questo progetto. Io vi ringrazio ancora, ridò la parola al Presidente. Grazie. Grazie Mirko per l'intervento e per il tuo impegno. Inizierei con gli interventi dei consiglieri comunali, invito il consigliere Maurizio Faticoni ad intervenire. Buonasera a tutti, pur io mi associo a un coloroso benvenuto agli amici di Ortona, e a tutti gli ortonesi che voi questa sera rappresentate. Questo viaggio di 300 km che avete fatto da Ortona fino a qui vi ha fatto ripercorrere questa linea Gustav con tutto quello che si è portato dietro dopo 74 anni. Quello che mi sento di dire io è che parlare o dire che è inutile dopo 74 anni ricordare quello che è successo in questa linea Gustav, è come dire che non serve studiare la storia. Stiamo su due livelli diversi, la storia insomma come dire ci nutre tutta una serie di particolari, di nozionismo, delle strategie di battaglia. La politica serve proprio per non dimenticare quei momenti, riviverli e trasmettere a quelli che verranno dopo le prossime generazioni questi valori perché come dire sia ancora più consapevole questo bisogno di pace che c'è non solo in Italia ma penso nel mondo. Se voi pensate a quello che è successo in Corea del Nord ultimamente tra Trump e Kim Jong-un che sembrava che stessimo all'inizio di una guerra nucleare poi questo incontro distensivo ma quello che è successo nella popolazione che ha tornato i missili di fiori sta a significare che quando uno lancia un segnale di pace, ecco se è un segnale di pace convinto le popolazioni lo sanno raccogliere e poi lo sanno anche mettere in atto. Io penso che appunto questo gemellaggio a questo serve, trasmettere alle prossime generazioni questa convinzione di pace e quindi farla propria e sapere che alcuni valori, specialmente le persone che si sono sacrificate in quei momenti di battaglia possono servire appunto per una cultura e per un mondo migliore. voglio ricordare che la linea Gustav era una linea di confine e a che cosa serviva lo sappiamo tutti inutile di percorrere la storia ma la linea Gustav era una linea di confine e quei postazioni, quei comuni come Minturno, come Ortona, ma come Cassino, come Castel di Sancro e altri comuni che si trovavano su questa linea si trovavano appunto al centro di due forze contrapposte con tutto quello che ne è successo non è che noi dovevamo contrapporre una parte, diciamo al sud le forze alleate o al nord i nazisti con l'RSI, la Repubblica Sociale Italiana tutte queste nostre città, queste città si trovavano al centro di questa battaglia con tutto quello che ne è successo, come le famose marocchinate che hanno devastato anche dal punto di vista della dignità la nostra popolazione. Sono pienamente convinto e aderisco a questa iniziativa, ringrazio tutte le persone che ci hanno lavorato per concretizzarla. Ritenco, e voglio concludere il mio intervento, che non bisogna dimenticare che nel centro Italia ci stava un'altra linea, la linea gotica, la linea verde che pure è stato teatro di cruente battaglia. Io penso che al di là di questo gemellaccio che sta nel cuore dei cittadini di Minturno e anche quelli di Ortona, verrà sentito stasera se noi riuscissimo a creare questo quadrilatro della pace, comprendendo anche la provincia di Apuania, ex provincia di Apuania, attuale Maste Carrara, con l'altro estremo adriatico Rimi-Pesaro dove sono stati teatri di cruenti battaglia, se noi riuscissimo a mettere in atto questo quadrilatro di pace con tutta una serie di percorsi dove si andrà a vivere questi momenti i cruenti, noi faremo un basso ulteriore e questo io mi auguro per quella cultura di pace che vuole trasmettere il comune di Minturno e il comune di Ortona. Quindi grazie di aver messo in atto questa iniziativa, io penso che noi tutti, i cittadini presenti, quelli rassenti, ma anche le prossime generazioni saranno farla propria e trasmettere alle prossime generazioni. Grazie. Grazie collega Faticoni per il caloroso intervento. Interviene il consigliere Marcaccio. Grazie presidente, signori sindaci, assessori, consiglieri. Oggi stiamo per suggellare il gemellaggio tra le nostre due città. Questo rapporto assume oggi una forma ufficiale, ma viene da lontano perché abbiamo condiviso una delle pagine più tristi della nostra storia. Partigiani e militari, anziani e giovanissimi, morti per perseguire dei grandi ideali. E mai come oggi abbiamo il dovere di sentirci impegnati a trasmettere nella sua interezza, a ripercorrere nella sua complessità l'esperienza vissuta nel drammatico periodo in cui l'Italia era divisa in due. Una fase storica che si tradusse in una straordinaria prova di riscatto civile e patriottico. Desidero ricordare le parole di uno studente, Giacomo Livi, di 19 anni, fucilato nel novembre del 44. Cari amici, allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica è stato il più terribile risultato di un'opera di diseducazione ventennale che è riuscita a inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della sporcizia della politica. E invece la cosa pubblica è noi stessi. Dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante. Il messaggio di questo ragazzo, di quel giovanissimo eroe, non restò isolato, ne vano. Se fu possibile far rinascere l'Italia lo fu perché in moltissimi si avvicinarono alla politica, non considerandola come qualcosa di sporco, ma vedendola, la cosa pubblica, come un affare di tutti e di ciascuno. Dinanzi alla crisi che oggi ha investito l'Italia e l'Europa nel quadro di un profondo cambiamento mondiale, abbiamo bisogno della politica come impegno inderogabile. Ecco il contesto nel quale si colloca il gemellaggio con Ortona, così dolorosamente ferita come noi nella seconda guerra mondiale, ma impegnata a combattere per liberarsi e per conquistare quel ruolo che l'espettava nella costruzione di una nuova Italia e di una nuova Europa, unita nella pace e nella democrazia. Viva Ortona, viva Minturno, viva l'Europa dei popoli! Grazie collega Marcaccio, chiedo di intervenire il consigliere Orlandi. Regreggi sindaci e colleghi consiglieri, autorità e cittadini di Ortona, graditi ospiti che siete intervenuti qui numerosi, intervengo a nome di tutto il gruppo civico appartenente alla maggioranza consigliare. Questa sera andiamo a celebrare il gemellaggio tra le nostre cittadine che furono accomunate dai tragici eventi che le videro protagoniste durante il secondo conflitto mondiale. Come ha avuto modo di sottolineare il Presidente della Repubblica durante il discorso tenuto a caso lì lo scorso 25 aprile, i nostri territori, le nostre montagne di cui oggi apprezziamo la grande bellezza, allora videro in mani tragedie. La linea Gustave e le battaglie che si combatterono segnarono fortemente i nostri territori, al punto da meritare sia Ortona che Minturno, la medaglia d'oro al valore l'una e dal merito civile l'altra. I valori che guidarono i nostri antenati furono quelli della resistenza e dell'antifascismo, da una parte i massacratori, gli aguzzini, i persecutori di ebrei, dall'altra la civiltà, la libertà, il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Questi valori sono quelli che devono guidare anche oggi, in tempi assai difficili, le nostre popolazioni e le nostre azioni politiche che devono tendere all'unione e alla fratellanza tra i popoli, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea e verso quelle popolazioni che stanno vivendo oggi quello che noi abbiamo vissuto 70 anni fa. Dal sacrificio e dalle sofferenze del passato dobbiamo trarre insegnamento per il futuro. Per tutto ciò questo gemellaggio ha ancora più valore in questo particolare momento storico dove tornano a soffiare eventi di divisione e di chiusura che in passato tanti disastri hanno prodotto. Il gemellaggio tra le nostre città nasce nel ricordo del passato ma deve essere come insegnamento per le generazioni presenti e future che hanno il diritto o dovere di conoscere la storia dei luoghi che vivono per far sì che il domani sia diverso dal passato. In chiusura voglio ringraziare Mirko Mendico, il delegato alla memoria storica nonché collega di Minturno Cambia, per l'impegno che in questi mesi ha profuso nell'organizzazione dell'evento e voglio complimentarmi con lui per la perseveranza con cui porta avanti questa e tutte le altre iniziative che riguardano la memoria storica del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie collega Orlandi, interviene il consigliere Iossa. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i cittadini e vorrei dare il mio benvenuto al sindaco di Ortona e a tutta la sua amministrazione. Penso che non si possa aggiungere altro alle belle parole che mi hanno preceduto dai miei colleghi consiglieri. Quindi diciamo che sulla parte storica è già stato detto tutto in tutta la giornata e anche dai vari accenni che ha fatto il collega Faticoni o Marcaccio o Orlandi. Quindi le mie parole sono di ringraziamento proprio per la città di Ortona con la quale proprio abbiamo vissuto dei momenti tragici insieme, anche se lontani. E vorrei ringraziare il delegato Mario Mirco Mendico per il lavoro che sta facendo per portare a conoscenza di tutta la cittadinanza, quello che è la storia del nostro territorio perché la storia non va dimenticata ma va studiata e che possa servire da lezioni per le generazioni future e che possa essere poi gettata come fondamento per la base della pace futura. Quindi ringrazio anche il sindaco, ringrazio tutto il Consiglio Comunale e l'amministrazione che ha permesso questo gemellaggio. Grazie. Grazie collega Iossa, interviene il sindaco e il dottor Gerardo Stefanelli. Allora sì, grazie, buonasera. Benvenuti a Minturno e benvenuti nell'antica Minturne. Io avevo preparato un intervento lungo però molti dei concetti sono già stati anticipati dai consiglieri e quindi ritorno alla spontaneità, ho deciso di andare a braccio. Innanzitutto un saluto cordiale e affettuoso al sindaco di Coreno, a Domenico Corte che ci ha raggiunto a testimonianza di quanto certi valori e la nostra storia sia comune e condivisa e sentita. Un saluto agli amici della linea Gustav, all'associazione che ci accompagna, partner indissolubile in questo programma percorso della memoria. Un saluto all'arma dei Carabinieri, all'associazione dei Carabinieri. A Biaggia Bruzzese, presidente allora del comitato per la medaglia d'oro al comune di Minturno. Un saluto all'amico Zenobbio che ho visto sui gradoni del teatro. Un saluto ai consiglieri e gli assessori insieme al sindaco di Ortona con cui abbiamo già condiviso una parte della giornata e ai consiglieri e agli assessori del comune di Minturno. Prima di incominciare il mio intervento vorrei leggere una lettera che ci è arrivata da Michele Fedele, merito vice governatore dello Stato del Connecticut, un nostro concittadino che da emigrante negli Stati Uniti ha avuto un certo successo, una certa riconoscibilità sociale e politica. Caro signor sindaco della mia amata città, anche se da lontano, seguo sempre le attività che si svolgono nella mia città e ciò grazie al mio vecchio amico e compagno di giochi, Franco Ciufo, al quale affido questo mio breve ma affettuoso saluto. Oggi la nostra città suggerirà un patto di gemellaggio con la città di Ortona per insaldare una forte unione che le ha unite in periodi bellici, essendo state le due teste di ponte della famigerata linea Gustav. Quella linea ha segnato l'inizio delle emigrazioni di tante famiglie che furono costrette a lasciare la loro amata Minturno per dare un futuro ai loro figli. Ma a Minturno sono rimaste le nostre radici e sovente il nostro pensiero torna a voi e siamo sempre felici quando ci arrivano le notizie della nostra città lontana. Nella nostra nuova città di Stanford siamo felici di passeggiare sulla Minturno Street, dove è anche il nostro Minturno Social Club, che fu inaugurato in occasione del patto di gemellaggio fra le nostre due città. In tal modo ci sembra di passeggiare in piazza Portanova, senza però avere davanti ai nostri occhi la bella vista sul golfo. Grazie caro mio sindaco per quanto stai facendo per la nostra città, insieme a tutta l'amministrazione, e auguri per il nobile e storico gemellaggio che oggi si suggella tra la nostra città e quella di Ortona, con l'ospicio di una nuova e proficua collaborazione. Viva Minturno e i miei concittadini. Michele Fedele Allora io ho voluto leggere, a parte per l'importanza e la sensibilità, l'ho voluto leggere anche perché ci sono dei passaggi che sembrano scritti quasi apposta per il momento storico-politico che viviamo e che non vorrei dirlo, ma purtroppo è così, sembra quasi avallare la scelta che facemmo nel 2016 di istituire la settimana della memoria, di costruire, di dare una delega ad una persona che si occupasse della settimana e della memoria del comune di Minturno. Di solito le deleghe si danno ad altre materie, invece noi scegliemmo questo. Perché scegliemmo questo? Perché oltre ad essere amministratori chiamati a confrontarci con la pragmaticità dei problemi quotidiani delle nostre comunità, siamo anche comunque dei politici, anche se questa parola in questa fase storica non ha molto appile e non gode di grande stima da parte della popolazione. Siamo politici nel momento in cui facciamo scelte politiche, come ricordava prima Matteo, facciamo scelte politiche e noi abbiamo fatto una scelta politica. La nostra scelta politica è quella di ricordare la memoria e soprattutto è quella di tirare metaforicamente fuori dal cassetto la medaglia al merito civile che fu riconosciuta al comune di Minturno il 3 agosto del 1998, primo comune della provincia pontina ad avere questo riconoscimento. Un riconoscimento che avvenne dopo tantissimo tempo vorrei Ortona, la medaglia d'oro al valore civile l'ha conseguita nel 1959. Minturno soltanto nel 1998 grazie alla caparbietà e alla volontà di una serie di cittadini, di un gruppo di cittadini più che di amministratori. Quasi che, fino a quel momento, quasi che ricordare quello che è successo in questa zona e quello che hanno subito le nostre popolazioni quasi fosse una vergogna o qualcosa che non avesse importanza. Noi invece abbiamo da subito creduto che la medaglia al merito civile fosse un qualcosa che segnasse in maniera positiva la nostra comunità e quello che era stato. Per questo abbiamo deciso di incominciare un percorso. Un percorso che, ripeto, è nato con la nomina di Mario Mirko Mendico a cui vanno i miei ringraziamenti proprio per avere una persona che si occupasse con passione immensa di questa attività. Abbiamo istituito la Settimana della Memoria, una settimana a maggio non solo per ricordare le battaglie e la conquista di Santa Maria Infante ma anche per coinvolgere le scuole, i ragazzi del nostro territorio in questo percorso. Oggi facciamo un altro passo, quello di un gemellaggio con il comune di Ortonaco che, come è stato ricordato, rappresenta esattamente l'omologo di Minturno sull'altra sponda, sulla sponda dell'Adriatico. Ma soprattutto continuerà questo percorso perché il 3 agosto di quest'anno festeggeremo e ricorderemo il ventennale del riconoscimento della medaglia d'oro istituendo la giornata al merito civile. Che cosa vuole essere e che cosa sarà la giornata al merito civile? Sarà un giorno, il 3 agosto, in cui noi premieremo dei nostri concittadini o delle persone che non sono cittadini di Minturno ma che sono legate a Minturno che nella loro vita hanno contribuito con il loro impegno civile allo sviluppo della nostra comunità. Perché questa decisione? Perché in un mondo in cui sembra che tutti hanno diritti ma nessuno ha doveri in un mondo in cui abbiamo quotidianamente davanti agli occhi e direi non solo quotidianamente ma ogni minuto davanti agli occhi esempi negativi esempi di violenza e comunque di negatività riteniamo importantissimo mettere in luce invece le esperienze positive. Dare ai ragazzi l'indicazione non soltanto quando ci riusciamo dei buoni consigli ma dare degli esempi degli esempi vivi concreti di lavoro e abnegazione a favore della collettività. Ne abbiamo un estremo bisogno ed è quello che io dico sempre quando incontriamo le scuole durante la settimana della memoria. Ricordare la seconda guerra mondiale i tragici fatti delle battaglie di Santa Maria tutto quello che è successo lungo la linea Gustav per cui non esiste esercito buono esercito cattivo anche l'esercito che veniva a liberarci ha portato distruzione sofferenze e violenze nel nostro territorio. Questo lo ricordiamo ai ragazzi perché la mia generazione ci sono state delle generazioni che hanno avuto la sfortuna di viverla la guerra oggi forse dovremmo dire la fortuna perché hanno imparato successivamente che cosa significasse ci sono delle generazioni come la mia che hanno avuto il racconto della testimonianza diretta dai propri genitori dai propri nonni di quello che è successo e di cosa significa la guerra e cosa porta la guerra e ci sono poi generazioni le ultime che tutte queste cose non le hanno vissute non le hanno sentite raccontate e probabilmente non ci pensano neanche queste sono le generazioni per cui la pace è scontata per cui usare parole e toni forti come quelli che purtroppo usa una parte della politica in questo periodo è una cosa così quasi un gioco non è un gioco perché si inizia con le parole si inizia con delle prese di posizione forte e poi senza neanche accorgersene si arriva a un punto di non ritorno e credo che la fase politica attuale che vive l'Europa e che vive anche la nostra nazione richiami un po' richiami un po' i tempi che precedettero la guerra e per cui è ancora più importante in questo momento trasmettere ai nostri ragazzi il valore e l'importanza della solidarietà della collaborazione fra popoli e nazioni io dico sempre ragazzi qui vicino ci sono duemila e qualche centinaio di tombe di soldati inglesi che avevano tra i sedici e i ventitré anni sedici e ventitré anni immaginate un ragazzo di vent'anni nel 1940 era un ragazzo che probabilmente non sapeva neanche dove stava l'Italia perché non c'erano televisioni non c'erano non c'era l'istruzione diffusa e fu e partirono per venire qui a morire per dare a un popolo che non conoscevano la libertà e questa vicenda ci fa riflettere quando pensiamo a qualcuno che dice che quando mandiamo i contingenti militari all'estero nelle operazioni di pace che cosa ce li mandiamo a fare perché sprechiamo i nostri soldi fateli ammazzare fra di loro e se avessero fatto questo pensiero tanti anni fa probabilmente noi oggi non saremmo qui a raccontare queste storie non saremmo qui a raccontarlo con la libertà che da anni da decenni viviamo in Italia allora questo è l'importanza della settimana della memoria non il ricordo nostalgico del passato ma un'operazione che vuole investire sul presente per donare ai ragazzi un diverso punto di vista per investire sulla loro sensibilità e quindi è anche un'operazione non solo che guarda il passato che opera nel presente ma che programma il futuro perché probabilmente ha l'ambizione di porgere dei semini di solidarietà e di pace nelle future generazioni oggi facciamo un altro passo il successivo sarà quello della realizzazione del museo della pace con il recupero della casa del contadino a Santa Maria Infante con gli atti amministrativi che sono in elaborazione per andare in gara a Ortona c'è il museo della battaglia speriamo nei prossimi anni di ospitarvi amici di Ortona al museo della pace di Santa Maria Infante vorrebbe dire che questo percorso è arrivato a costruire e realizzare un ulteriore passo decisivo io termino il mio intervento ricordando Mario Ciufo che è il papà dell'avvocato Franco Ciufo che mi dispiace che non sia potuto essere presente era stato invitato ci teneva alla sua presenza perché cito Mario Ciufo perché il 2 giugno durante la cerimonia della festa della Repubblica a Latina dove tra l'altro è stata un'emozione straordinaria per chi ha partecipato anche con me quando hanno chiamato i gonfaloni ascoltare il primo la città di Latina il secondo il comune di Minturno e per noi che veniamo geograficamente sempre dalla fine della provincia di Latina caro Biagio ti ho pensato quando ho sentito chiamare Labaro di Minturno dopo quello della città del comune capoluogo per una volta ci siamo sentiti all'altezza anche degli altri dicevo durante questa cerimonia è stata consegnata la medaglia d'onore ai familiari di Mario Ciufo che è un riconoscimento che viene consegnato ai cittadini italiani o stranieri o ai familiari nel caso di persone decedute che sono state deportate internate e deputati nei lager nazisti sono stati destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra perché questa è stata la guerra sofferenza violenza distruzione e dalla guerra come ci ricordava il nostro governatore del Connectica sono nati poi tantissimi emigranti tantissime famiglie che si sono distrutte tantissimi italiani tantissimi minturnesi che sono andati all'estero a cercare lavoro a cercare di non morire di fame a cercare un futuro per i propri figli e mettiamocelo e ricordiamocelo spesso oggi purtroppo questo presente riguarda altri popoli quindi quando approcciamo a certe problematiche ricordiamoci sempre che quello che oggi è per gli altri ieri è stato per noi grazie buona serata grazie sindaco con molto piacere passo la parola al sindaco della città di Ortona Leo Castiglione grazie presidente saluto la cittadinanza saluto la cittadinanza di Minturno il sindaco e saluto il segretario comunale saluto i consiglieri gli assessori tutti i presenti questo gemellaggio si inserisce nel percorso di memoria storica che da anni il nostro comune ha avviato per trasmettere il ricordo degli eventi tragici che 75 anni fa sconvolsero il nostro territorio in particolare questo patto di gemellaggio ripercorre quella linea di difesa denominata Gustav che nell'inverno 43-44 vide fronteggiarsi le truppe angloamericane e quelle tedesche una linea che attraverso le caratteristiche e morfologiche dell'Appennino aveva come città Caposaldo Ortona sull'Adriatico e Minturno sul Tirreno su questo fronte si svolsero cruente battaglie con migliaia di morti militari e civili distruzioni di centri urbani e territori che subirono eventi narrati ora dai libri di storia una storia che anche attraverso questi patti di gemellaggio tra le istituzioni comunali e le rispettive comunità si rinnova per le future generazioni e rappresenta un punto d'incontro per avviare un cammino comune di crescita e sviluppo culturale sociale istituzionale con questo spirito il consiglio comunale di Ortona ha condiviso con il consiglio comunale di Minturno la volontà di avviare un progetto di relazioni che sulla base degli eventi storici della linea Gustav può promuovere il legame tra due comunità che hanno condiviso l'esperienza della sofferenza e del sacrificio ben ricordate nelle motivazioni con cui sono state concesse le medaglie d'oro al valore civile alle due municipalità nobile città degli abruzzi recita l'incipit della motivazione dell'alta onerificenza concessa a Ortona con decreto del Presidente della Repubblica come ricordava il sindaco il 16 giugno 1959 e descrive una città martoriata e che con coraggio sopportava spaventosi bombardamenti con un sacrificio materiale e umano di 1314 dei suoi figli un tributo di sangue unico per le città abruzzesi a cui si deve sommare l'alto numero di vittime tra i militari canadesi e tedeschi come hanno raccontato i corrispondenti di guerra dal fronte alleato dell'ottava armata un milione e duecentomila proiettili di artiglieria vennero lanciati sulla città che meritò l'appellativo di piccola Stalingrado perché si combatté casa per casa strada fu proprio un parlamentare ortonese l'avvocato Silvio Paolucci che nella seduta della Camera del 15 febbraio 49 diete un primo resoconto di quel tragico conto di guerra tra la popolazione ortonese oltre alle 1314 vittime si contavano 3074 feriti e 15.000 sfollati da quella tragica pagina di storia gli ortonesi guidati dalla caratteristica tempra abruzzese di persone forti e gentili hanno ricostruito una città e la sua comunità che oggi conta circa 24.000 abitanti ed è una delle città principali della provincia di Chieti sia sotto l'aspetto storico-culturale e sia per le attività economiche e produttive il nostro territorio è il punto di partenza della costa dei Trabocchi un'area paesaggistica particolarmente suggestiva che lega il mare all'entroterra collinare sotto lo slancio imponente e protettivo del massiccio della Maiella il nostro porto rappresenta uno snodo centrale per i traffici del medio adriatico e l'alta qualità dei nostri vini sono riconosciuti in ambito internazionale ma la ricchezza del nostro territorio è testimoniata dalla sua storia millenaria con i primi insediamenti che risalgono all'età del bronzo e alla crescita del suo borgo marinaro dominato dal castello aragonese che si affaccia sul mare atriatico e proprio da quella porta verso l'oriente sono giunte il 6 settembre 1258 dall'isola di Chios nel mare Geo portate da marinai ortonesi le reliquie dell'apostolo Tommaso che da allora sono custodite nella nostra cattedrale un patrimonio non solo di fede essendo il patrono della città ma che sulla scia dei cammini esperienziali ha aperto un valido canale di turismo religioso tra la nostra città e altre realtà lo sguardo delle città di mare come sono ortono e minturno si apre quasi naturalmente all'orizzonte e alle sfide di nuove esperienze che si intrecciano tra luoghi persone e storia così con questo spirito di conoscenza la nostra municipalità ha da sempre navigato verso nuove opportunità di collaborazione che hanno visto protagonista la città di Cassino nel 1991 in ricordo delle distruzioni della seconda guerra mondiale l'isola di Chios nel 2008 sulla scia millenaria della figura evangelizzatrice di San Tommaso l'odierna megalopoli russa di Volgograd nel 2013 passata la storia con il nome di Stalingrado ma anche i percorsi avviati con le città farnesiane come Odenhard che videro protagonista sul finire del 1500 la duchessa Margherita d'Austria figlia naturale dell'imperatore Carlo V che fece realizzare proprio a Ortona suo ultimo possedimento la sua dimora un posto particolare merita poi una nazione intera come il Canada e alcune sue città sull'altra sponda dell'oceano entrate ormai nella storia della nostra città con i nomi dei reggimenti militari e di quei giovani soldati che sacrificarono la loro vita per liberare la nostra città oggi gran parte di loro riposano su una dolce collina ortonese protetta da oliveti che guardano il mare con le sue 1375 lapidi bianche quello della collina di San Donato è il cimitero che contiene il maggior numero di caduti canadesi in Italia il percorso tracciato dalla storia sulla linea Gustav può dunque rappresentare un canale di collegamento si direbbe oggi multitasking dalla storia al sociale dalla cultura allo sport dagli incontri istituzionali a quelli individuali fino al turismo e alla scoperta dei nostri splendidi territori appenninici seguendo la strada tracciata dagli amici che hanno percorso a cavallo dal 9 al 17 giugno per la quarta edizione i 300 chilometri che separano le città di Ortone e di Minturno a cui simbolicamente è stato consegnato il nostro patto di gemellaggio quei cavalieri sono stati i messaggeri di questa nuova pagina di storia delle nostre municipalità una storia comune che deve diventare un'opportunità di fratellanza ma anche soprattutto un veicolo di sviluppo e crescita per le nuove generazioni a cui lasciare questa importante eredità affinché non si disperda la memoria dei valori che in quei tragici giorni dell'inverno 43-44 fiorirono per far rinascere una nazione libera forte e democratica sulla base di queste idealità dobbiamo da oggi con la sottoscrizione di questo patto di amicizia realizzare una progettualità comune che consenta ai nostri cittadini di conoscersi e di scambiarsi esperienze e tradizioni per arricchire il patrimonio culturale e popolare di entrambe le città questa serata quindi rappresenta il punto di partenza di un percorso che affronteremo mano nella mano e costruiremo fianco a fianco affinché non resti solo sulla carta ma si trasformi in un vincolo di affetto e di rispetto il nostro primo obiettivo sarà coinvolgere i giovani le scuole e il mondo dell'associazionismo affinché diventino i protagonisti indiscussi di questo gemellaggio con la vitalità delle loro iniziative e l'originalità delle loro idee questo gemellaggio ha poi un valore particolare per la città di Ortona perché rientra tra le celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione della città avvenuta nel dicembre del 43 da parte dei militari canadesi dell'ottava armata e proprio in occasione della giornata celebrativa il prossimo 28 dicembre anticipo in questa occasione l'invito per il sindaco Gerardo Stefanelli il presidente del consiglio comunale Giuseppe Tomao tutto il consiglio comunale e la comunità di Minturno e vi ringrazio per la sensibilità e l'ospitalità dimostrata un saluto affettuoso va poi al vostro delegato Mario Mirco Mendico con cui abbiamo lavorato per gettare le fondamenta di questa giornata un ringraziamento va poi alla mia comunità sempre attenta a mantenere viva la memoria al presidente del consiglio comunale di Ortona ai consiglieri agli assessori che insieme a una nutrita delegazione di ortonesi mi hanno accompagnato in questa giornata per tutti voglio ricordare per tutti voglio ricordare l'amico Tommaso Cespa che ha vissuto quelle tragiche settimane del 1943 ringrazio l'associazione carabinieri e rappresentante dell'Animi qui presente nella sezione di Ortona chiudo con una riflessione che un po' mi è stata rubata però vabbè da un consigliere non so il nome una riflessione nata leggendo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate in occasione delle celebrazioni per la festa del 25 aprile in cui ricordava il sacrificio subito da quel fronte italiano che per lunghi e durissimi mesi si stabilì tra Ortona Cassino e Minturno quel fronte è oggi un filo della memoria che abbiamo iniziato a tessere spetta a tutti noi renderlo forte e robusto grazie grazie sindaco grazie ancora per essere venuto qui con la sua amministrazione e la sua comunità per la sottoscrizione di questo patto di gemellaggio che il nostro consiglio comunale ha approvato con delibera numero 6 del 2018 demandando la sottoscrizione al sindaco patto di gemellaggio che andrete a sottoscrivere e che leggo considerato che i due comuni pur distanti geograficamente sono legati dalle tragiche vicende avvenute durante la seconda guerra montiale negli anni 1943-44 nelle due città capisaldi della linea Gustav si registrarono centinaia di vittime ed incendi tanni per i fatti accaduti durante l'ultimo conflitto il 16 giugno 1959 il comune di Ortona Chieti è stato insegnato dal Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al valore civile il 3 agosto 1998 al comune di Minturno provincia di Latina è stata attribuita dal capo dello Stato la medaglia d'oro al merito civile dato che le due amministrazioni civiche sono già fattivamente impegnate attraverso manifestazioni iniziative ed eventi culturali a mantenere viva la memoria storica dei rispettivi territori nei mesi di dicembre di gennaio ad Ortona viene programmato il mese della memoria a maggio a Minturno si svolge la settimana della memoria ritenuto da oltre 70 anni delle dolorose vicende vissute lungo la linea Gustave di non dover rimuovere la memoria del passato e di mantenerla viva allo scopo di consentire alle nuove generazioni di conoscere approfondire i fatti di capire le divisioni di un tempo e di contribuire a porre le basi per un futuro di pace rilevato che le due comunità possono favorire un duraturo scambio culturale anche attraverso il coinvolgimento delle scuole presenti nei rispettivi territori l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali condivise sottoscrivono il presente patto di gemellaggio con il quale si afferma l'interesse dei comuni e delle comunità di Ortona e Minturno a instaurare sviluppare e consolidare profigui rapporti di amicizia solidarietà ospitalità e scambi culturali tra le due comunità favorire attività culturali nell'interesse delle due generazioni finalizzate a costruire una cultura di pace promuovere lo studio e l'approfondimento delle tragiche vicende registrate lungo la linea Gustave nel 1943-44 divulgare le rispettive iniziative in campo sociale culturale turistico Minturno 17 giugno 2018 direi ai due sindaci di sottoscrivere il ah ok anche sulla delibera ma vediamo anche questo fatto che dobbiamo eh sì ma qui grazie 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 Grazie. 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 Facciamo una foto tutti quanti insieme, che dietro a tavola non penso accetteremo tutti. Volevo solo, nel frattempo che prendete posto, volevo ringraziare veramente di cuore il sindaco, il presidente, Mirko, i due accompagnatori, i due tecnici, l'architetto di questa mattina e l'ingegnere architetto, adesso non ricordo i nomi. Veramente siamo stati accolti con tanto affetto, veramente ci siamo trovati a casa, forse era scritto che queste due città dovevano incontrarsi in un patto di gemellaggio e sono certo che questo sarà un gemellaggio che porterà dei frutti per le due comunità. Ne sono veramente convinto. Grazie veramente a tutta la comunità di Minturno. Grazie. Grazie sindaco, un attimo solo prima della foto abbiamo un regalo da consegnarvi, il famoso scambio dei doni. Cominciamo con... Queste sono le nevole, è un dolce tipico che in Italia non si trova se non a Ortona, è un dolce tipico fatto con il mostocotto, con una procedura particolare che le donne purtroppo più andiamo avanti col tempo e abbandonano perché le nostre nonne, le nostre mamme sanno quanto è dura fare questo dolce, perché si rischia di bruciarsi le mani e quindi però è una tradizione che Ortona porta avanti e con tanto affetto ed amore ve lo facciamo provare, perché siamo certi che la nevola ci unirà insieme agli altri prodotti vostri con Ortona. Prego, questo per iniziare. Poi, allora, questa invece è una bellissima iniziativa della nostra cantina sociale di Ortona, proprio la cantina sociale. L'Ortona, come qui, ha tante cantine private e non. E la nostra cantina sociale quest'anno, in occasione del 75esimo, ha avuto una brillante iniziativa, quella di produrre un vino fenomenale, e chiamandolo proprio Linea Gustav, vino Gustav. E quindi, che già il presidente ha avuto modo di ricevere, questo è simbolico perché doniamo una bottiglia a tutti i consiglieri comunali, quindi adesso ve li daremo simbolicamente, e volevamo farlo vedere, oltre che al sindaco. Prego. Grazie, grazie. Allora, noi invece... E poi, c'è un libro che vi doniamo, che parla del nostro teatro, Ortona e la patria di Francesco Paolo Tosti. Quando verrete ad Ortona, potrete ammirare la bellezza di un teatro che è unico per il suo affaccio sul mare, e che è intitolato a Francesco Paolo Tosti. Purtroppo, quando, nella festa del perdono, il presidente qui ha avuto, hanno avuto un imprevisto con il pullman, e quindi non sono stati presenti, però non mancherà l'occasione, il 28 dicembre sarete ospiti proprio presso il teatro Tosti di Ortona. Grazie. Prodotti tipici locali. Noi omaggiamo il sindaco con un cesto di prodotti tipici locali, tra salumi, formaggi e vini, e i consiglieri comunali con due pubblicazioni. Uno sul comprensorio archeologico di Minturne, l'area che ci ospita, scritto dalla dottoressa Giovanna Rita Bellini, che è la direttrice dell'ERA, fino a venerdì, la direttrice del comprensorio di Minturne, a cui vanno anche questa sera i nostri sentiti ringraziamenti, e che credo terremo in considerazione per il premio al merito civile, visto che ormai è qui da oltre 20 anni, è un numero di civiltà aurunca dedicato a Scauri, che è alla Torre dei Molini, e lo consegneremo successivamente. Adesso vorrei fare una foto con tutti i consiglieri e con Leo Castiglione, sindaco di Ortona, per suggellare anche visivamente questa amicizia e questo patto di gemellaggio, e ovviamente, cari consiglieri, cari assessori e cari concittadini, l'appuntamento è per il 28 dicembre per partecipare alla festa della libertà, se ho capito bene, della liberazione di Ortona. Grazie, grazie a tutti. Con il sindaco Leo Castiglione di Ortona, un bellissimo gemellaggio, abbiamo unito le due sponde dell'Italia. Sì, due comunità che erano già unite dal dolore, dal sacrificio, dal sangue versato dai propri cittadini nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi a noi l'onore e l'onere di non dimenticare e di creare questi momenti di collaborazione, anche istituzionali, affinché il patrimonio sociale, culturale, umano, che ci è stato lasciato, possa essere un valore aggiunto per far sì che queste due comunità possano crescere insieme e possano essere da modello per altre realtà, perché non c'è identità senza la storia, la propria storia, non si può dimenticare se si vuol credere in un futuro migliore. Potremmo dire così, uniti dal dolore in partenza, ma dalla felicità a quella dimostrata quest'oggi. Certamente, la sofferenza ci ha uniti i due capisaldo della linea Gustav, Minturno sul Tirreno e Ortona sull'Adriatico, non possono che unirsi per far sì che questa linea Gustav sia una linea di pace da oggi in poi e per far sì che questa linea Gustav debba essere ricordata per quello che Ortona e Minturno hanno fatto e che faranno da oggi in poi e per far sì che il dolore, il sangue, le atrocità, le tragedie non appartengano più a questa umanità. Con il sindaco di Coreno Sonio, un altro comune che ha pagato con il sangue il passaggio dalla linea Gustav, un bellissimo gemellaggio che forse va aperto ad altri comuni per formare quella famosa linea oggi di serenità, di pace. Sì, sicuramente un gemellaggio molto importante e molto significativo per il nostro territorio. Io mi auguro che questo gemellaggio possa mettere insieme tutti i sindaci, tutti i comuni che sono stati attraversati la linea Gustav e quindi tutti insieme realizzare un programma per trasmettere alle nuove generazioni, ai giovani che purtroppo oggi sono presi da tante altre cose e quindi non vanno perdendo quei principi, quei sani principi dei nostri nonni per ricordare quello che è accaduto 75 anni fa su questo territorio. Anche noi come amministrazione comunale abbiamo e da anni stiamo facendo varie rievocazioni, varie commemorazioni, quindi come comune di Coreno siamo a disposizione per collaborare proprio perché in sinergia si possono realizzare tante belle cose. Allora, l'invito è stato lanciato, anche gli altri comuni si dovranno accotare? Sì, io mi auguro che anche gli altri comuni partecipano a rafforzare questo gemellaggio. Mario Mirko Mendico, questo gemellaggio parte da lontano, hai lavorato chiuso nelle stanze, hai fatto tanti viaggi e tanti studi, ma la soddisfazione di oggi è impagabile secondo me? Sì, è vero, non lo nascondo, è grande soddisfazione, è un progetto che parte da lontano, come dicevi. Sono mesi che ci lavoro, che sono stata a Ortona, ho studiato il modo in cui farlo, ho avuto rapporti con varie associazioni, con lo stesso sindaco Leo Castiglione, ci siamo sentiti più di una volta. Tanto lavoro dietro che non si vede, sembra una semplice giornata, però spero che sia il punto di partenza su cui le due cittadine possono raggiungere degli obiettivi insieme. Dicevamo con il sindaco di Corinao Sonio che il gemellaggio va allargato, perché tutti i comuni che fanno parte di questa linea Gustav devono prendere parte in un unico nome praticamente. Allora, io sono sincero, io quando ho pensato ai vari gemellaggi da fare sulla linea Gustav, il primo pensiero è stato ricominciare dalla storia cosa ci ha insegnato. I capisaldi erano Ortona e Minturno, ora per ripartire nel futuro con un patto di gemellaggio tra i vari comuni bisognava ripartire all'inizio, quindi da Roma, da Ortona e da Minturno. Da oggi in poi, in questi anni, raggiungeremo le altre amministrazioni. C'è ancora tanto da lavorare anche perché in cantiere c'è il famoso museo. Sì, e di questi mesi anche lì nelle stanze sembra che non si faccia niente, invece c'è tanto lavoro dietro, posso comunicare tranquillamente che è in fase di bando, quindi presto verrà presa una ditta che finirà i lavori della Casa del Contadino e spero che in massimo due, tre anni realizzeremo questo museo tanto agognato. Fra trent'anni, quando si parlerà di questa giornata, sarà una giornata di pace, uniti dal dolore ma poi uniti dalla pace. Sì, come ho fatto scrivere nel manifesto, uniti dal destino e dal destino della storia che ci ha uniti e ripartire insieme culturalmente, per la pace, anche perché no, turisticamente, economicamente. Sindaco Stefanelli, è stato sancito questo gemellaggio, tanti mesi di lavoro che poi arrivano a chiudersi con una firma, ma una firma importante. Ma la firma è l'atto finale, l'atto formale che testimonia, attesta l'esistenza di questo gemellaggio. In realtà, come ho detto, questo gemellaggio ha un valore simbolico che va al di là del rapporto fra Minturno e la città di Ortona, perché è un ulteriore passo che noi facciamo sul cammino della memoria. sapete tutti che al nostro insediamento ho nominato un delegato, una persona che si occupasse espressamente di questi temi. L'ho fatto perché? Perché comunque, oltre ad essere amministratori, siamo politici e quindi nelle nostre scelte sono indicati quelli che sono i valori che vogliamo testimoniare nella nostra esperienza di governo. Il discorso della memoria non è soltanto qualcosa di nostalgico, la rivendicazione del passato, è prendere il passato per lavorarci nel presente con le scuole, con la cittadinanza e preparare il futuro, perché attraverso la testimonianza dei valori della pace fra popoli, della collaborazione fra le nazioni e l'importanza dell'Europa Unita, noi diamo un messaggio alle nuove generazioni. Il messaggio è che la pace non è una condizione scontata, ma addirittura in Europa ormai sono 70 anni di pace, sono una condizione straordinaria che non esiste in nessun altro continente del mondo. Questi 70 anni di pace sono dovuti alla grande invenzione dell'Europa Unita che fecero i padri fondatori dell'Europa nel dopoguerra. Quella intuizione ha consentito alle nostre popolazioni di vivere un 70 anni di pace, di sviluppo, di prosperità e di democrazia. Ed è necessario ricordarlo ai ragazzi perché lo danno per scontato come se la pace fosse una condizione assoluta che esiste a prescindere dai comportamenti umani. Così non è, così non sarà. Per cui è importante, mentre la mia generazione è quella che mi ha preceduto, o ha vissuto, o ha avuto testimonianza diretta di cosa significa la guerra, delle sofferenze, delle privazioni, della povertà, delle famiglie distrutte, dell'emigrazione di tante persone che nel dopoguerra hanno lasciato il nostro paese e sono andati in altri continenti, in altre nazioni per sfuggire alla fame e alla morte e alla povertà. Allora, tutte queste cose dobbiamo raccontarle ai ragazzi perché quello che oggi riguarda altri continenti, altre nazioni, altre persone, un tempo ha toccato anche noi e anche noi abbiamo dovuto, siamo stati chiamati a fare delle scelte drastiche, delle scelte terribili, pur di avere un futuro di vita e di serenità. Oggi lo fanno altri popoli e noi dobbiamo avere nei loro confronti lo stesso atteggiamento che hanno avuto nei confronti dei nostri avi. Sapete che durante la settimana della memoria facciamo un'attività di divulgazione ai ragazzi del nostro territorio, oggi con il gemellaggio con Urtona, compiamo un altro passo verso questo progetto e verso questo programma che non è soltanto amministrativo ma che è soprattutto politico. Ovviamente poi dal rapporto con altre comunità possono nascere anche occasioni di interscambi commerciali, turistici, culturali. È sempre buono avere rapporti di collaborazione e di condivisione con altre comunità.